segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora cosa facevo riferimento vi ho detto che c'era un piccolo grande caso che si è creato piccolo ma fino a un certo punto molto indicativo e farà parlare vedete questo è il il tweet che è stato postato Ergis è un signore albanese che risulta essere il compagno della ministra e dadone e come vedete il consiglio dei ministri delle 15 e 30 come lo immagina lui scriveva il consiglio dei ministri che non c'è stato per lo meglio o per c'è ancora stato ecco si immaginava appunto quella scena che abbiamo visto tanti anni fa in quel giovedì a francoforte alla banca centrale europea e però al posto della contestatrice come vedete c'è il volto della ministra e dadone ministra dei 5 stelle è chiaro che è questa